Per come si va risolvendo la vicenda di questo balcone, unnesimo balcone, unnesimi soldi che passano sulla pelle di questi disgraziati che escono dalle tasche dei cittadini italiani, quindi evidentemente alzare garbatamente la voce paga, cosa che l'Italia e il governo italiano faceva da tempo in meno e da diversi anni. Abbiamo aperto un fronte di discussione per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale, sicuramente non si chiude oggi la partita. Grazie